...caccia di un biglietto per l'appuntamento finale di questa competizione. Ultima chiamata per entrambe. Chi perde è... torna a casa a mani vuote. Cristiano Ronaldo si è sbarcato con gran classe qui. E qualità. Troppo facile per Ronaldo. Prova CR7, occhio al tiro. Attenzione, ecco il gol! Avrebbero dovuto amministrare meglio il vantaggio. Brava comunque la squadra avversaria a non abbattersi e a rispondere immediatamente al gol subito pochi istanti prima. Cristiano Ronaldo, uno come lui, può fare colpi di questo tipo. Ha dimostrato ancora una volta le sue enormi qualità. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione.